salve a tutti ragazzi e benvenuti su elite gaming benvenuti su fallout 76 in questo nuovissimo video news in cui voglio mostrarvi tutti i nuovi contenuti che verranno introdotti con l'aggiornamento previsto per la primavera 2019 ossia wild appalacchia è stata presentata anche una sorta di roadmap per tutto l'anno 2019 quindi con i contenuti che arriveranno anche quest'estate e questo autunno però ve li mostrerò in un altro video visto che questo aggiornamento comunque imminente e questi contenuti sono particolarmente approfonditi quantomeno nella spiegazione di essi ho deciso di portarvelo come video separato mi rendo conto che fallout 76 non abbia avuto uno dei migliori lanci e questo è soltanto un eufemismo vedo però gli sviluppatori intenzionati a migliorare il loro prodotto e visto che non era interamente da buttare secondo me ho deciso di continuare a credere in questa loro produzione e comunque mi vedrete produrre contenuti su di essa l'unico motivo per cui non vi ho portato prima alcuni video guide e neanche una recensione è perché con tutti gli aggiornamenti già fatti mi sembrava superfluo portare video che presto sarebbero diventati obsoleti non ha più senso rimandare però quindi aspettatevene diverse aggiornamento wild appalacchia la data di uscita prevista è il 12 marzo e questa stagione per così dire dedicata a questo dlc coprirà i mesi di marzo aprile e maggio fino ad arrivare a quello che sarà l'aggiornamento estivo come vi dicevo tra circa due settimane inizierà il tutto e citando quello che c'è scritto una bestia leggendaria una generazione locale di scout è la bevanda più potente di questa parte della zona contaminata questo è per così dire il tema di questo dlc il 12 marzo anche verrà aggiunta una nuova funzionalità ossia quella della mescita e distillazione una nuova feature a cui potremmo cedere direttamente nel nostro camp il 19 marzo poi arriverà un nuovo evento la sfilata di fuzznatch che cita unitevi alla festa e completate questo evento a tempo limitato per ottenere ricompense esclusive il 26 marzo arriverà una nuova modalità sopravvivenza questa nuova modalità alza la posta in gioco dell'esperienza pvp con più restrizioni più ricompense nuove sfide per poi passare al mese di aprile dove il 9 aprile arriveranno i distributori dei giocatori e fotografie e il 16 aprile le fotografie quindi verrà effettivamente introdotta una macchina fotografica che ci permetterà di catturare alcuni momenti il 9 aprile inoltre verranno introdotte delle nuove missioni il cui nome è terrore al 100 per cento e cita scoprite i segreti criptidi della palacchia in una nuova serie di missioni e incontri che affiancano il mostro al mito e visti già tutti gli easter egg presenti comunque nella mappa di gioco questo particolare evento queste particolari missioni più che altro mi intrigano parecchio spero vengano sfruttate a dovere passiamo poi infine al mese di maggio dove innanzitutto il 7 maggio arriveranno altre nuove missioni il cui titolo è sempre più efficienti raggiungete le profondità più remote dei boschi con le nuove storie dei leggendari scout pionieri e un nuovo sistema di personalizzazione dello zaino spero comunque che prima dell'uscita approfondiscano un po la questione per concludere il 23 maggio verrà introdotta un'altra nuova funzionalità il commerciante leggendario trovate il misterioso collezionista per scambiare e riciclare gli oggetti leggendari che non vi servono e ottenerne di nuovi quindi una sorta di nuovo vendor che forse rispetto a quelli base avrà una sua utilità questi comunque sono tutti i contenuti previsti per il dlc wild appalacchia che verrà introdotto nel gioco il 12 marzo e che verrà dilazionato nei successivi tre mesi in questa specie di stagione primaverile dunque ragazzi per quanto riguarda questo video news è tutto come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi